Il canicattinese ormai si è abituato passivamente a vivere e convivere con i numerosi problemi irrisolti che affliggono la nostra città a partire dai rifiuti, dalle erbacce, dalla poca pulizia, dal traffico caotico, dalla mancanza di guida del verde pubblico, dalla sosta selvaggia, dal servizio idrico, dalle tasse, i tributi esosi e via dicendo. Ma quello che offriamo ai forestieri, ovvero a quanti arrivano nella nostra città dai paesi vicinori, non è certo una bella immagine. Come dire, non ci facciamo una bella figura. Abbiamo preso ad esempio il tratto finale di Via De Gasperi, ne presse il passaggio a livello di Contata Carlino e ad alcune centinaia di metri dalla sede che ospita la compagnia Carabinieri, il distaccamento dei Vigi del Fuoco, il comando della Polizia Municipale, lo sportello di Girgenti Acque e altri traenti associazioni. Ebbene, guardate le immagini riprese alla nostra telecamera che mettono in risalto come il marciapiede sinistro andando verso Contrada Carlino, si è letteralmente coperto da erbacce. E tutto questo non fa altro che quanti a piedi, non avendo mezzo proprio per spostarsi e recarsi all'immobile comunale, sono costretti ad utilizzare la sede stradale con il rischio di essere investiti. E allora all'amministrazione comunale rivolgiamo un invito. Per fare questo servizio non ci vogliono scienziati, ma solo buona, tanta volontà, quella che purtroppo manca. E alla fine chi ne paga le conseguenze, altro non è che il cittadino già oberato dal dover pagare tributi esosi. Dimenticavo di dire all'amministrazione comunale che il decoro e l'immagine di un comune passano attraverso la pulizia, quella che manca.